Bene, allora vedo che molti di voi erano qui anche ieri sera, per chi non c'era ieri sera, beh è stata una bellissima serata, abbiamo fatto veramente più di quattro chiacchiere in compagnia e mi ha fatto molto piacere, ho visto che c'era molta molta attenzione, c'è stato un bel bombardamento di immagini e oggi invece facciamo una cosa completamente diversa, oggi si parla e basta e senza immagini si cercherà di invece immaginare qualche cosa, ci concentreremo su certi aspetti che vi racconterò e cercheremo di visualizzarli nella nostra testa. Allora io stasera naturalmente ho il piacere di avere qui con me padre Pier Damiano Spotorno che è una persona irraggiungibile devo dire, per parlare con lui bisogna ricorrere ai trucchi, lasciamo passare la sita, io lo sto inseguendo da quando ho iniziato questa ricerca, sarà perché ce ne rimasti pochi all'abbazia, sarà perché forse è l'unico pensatore che insomma ha fatto stacche, padre Pier Damiano, è sempre occupato, fischia, per cui mi sono dovuto escogitare qualcosa, dico come faccio io a fare una bella chiacchierata in compagnia di padre Damiano senza che lui mi scappi, ho detto facciamo una conferenza così lo incastro per un'ora, un'ora e mezzo, un'ora via, io oggi spero di non sforare, un'oretta, capito? Perché? Perché comunque per me padre Damiano nella cultura vallombrosana è un riferimento, per me che di cultura vallombrosana insomma ne mastico poca e abbastanza ignorantemente perché sono tutte cose che ho imparato diciamo nel tempo per pura passione, però io ho bisogno anche di un pochino di riscontro, allora gli dicevo sempre ma vediamo un pochino se questa ricerca che io sto facendo merita di essere portata avanti oppure no, però ripeto d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo e lui non è mai disponibile, quindi ho veramente piacere di averlo qui stasera e così parliamo tutti insieme e con lui. Allora vi racconto una cosa, io sto lavorando alla solita ricerca che in parte vi ho raccontato ieri che copre il periodo dalla fine dell'Ottocento fino, beh ora cerchiamo insieme a Duccio Baldassini di andare avanti fino agli anni 50 vorremmo del Novecento, cioè quando a Vallombrosa è ripresa, Vallombrosa è ripreso l'attività turistica subito dopo la fine della guerra, però che cosa è successo? Che nel fare questa ricerca ogni tanto inciampavo in qualche notizia che mi riportava molto indietro nel tempo, mi riportava all'inizio dell'Ottocento, al Settecento e per certi versi anche al Seicento, allora ho detto qui bisogna darsi una regolata, bisogna mettere un punto di partenza e dico rifacciamoci, ho abbandonato un pochino la ricerca più recente, fra virgolette più recente e mi sono immerso un attimino per curiosità in una ricerca un po' più antica, che copre appunto il Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Facendo questa ricerca mi sono accorto che c'è molto da scoprire, molte cose le ho scoperte e altre stanno venendo fuori, per cui ho detto va bene organizziamo un pochino il lavoro, diamoci un punto di partenza e un punto di arrivo in questa ricerca, per cui dopo lungo pensiero ho deciso di partire da John Milton, niente meno che, per arrivare al 1877, che è un'altra data altrettanto importante per noi vallombrosani e saltinesi, il 1877 è la data in cui è stata costruita la strada che ha permesso praticamente alle carrozze di arrivare a Vallombrosa, le carrozze trainate da cavalli, quelle che insomma tutti conosciamo, le diligenze diciamo, quello è molto prima, hanno aperto loro la strada, bene e quindi mi sono messo a guardare un pochino questo periodo storico. Bene, allora cosa succede? Io sono partito da Milton, io vi voglio leggere brevemente intanto chi era, perché se ne parla tanto di Milton, tutti sanno che ha scritto Il Paradiso Perduto, eccetera eccetera, però che cosa ci abbia a che fare con Vallombrosa? Dice, ma perché c'è Il Paradisino? Sì, no, no, non è proprio Il Paradisino, Il Paradisino è venuto dopo, hanno dato il nome Paradisino proprio per rendere un pochino omaggio a John Milton, per cui io ho scritto alcune cose che vi leggo, non sto a leggere tutto, ci sono soltanto delle cose, sono appunti che io mi sono fatto nel corso dell'inverno passato e che porterò avanti nel corso del prossimo inverno. Praticamente John Milton facendo il, ha scritto un poema in dieci volumi dove lui parla della cacciata di Adamo e Eva dal Paradiso, dice, ha voluto dieci volumi per descrivere questa cacciata, ce n'è di roba da raccontare forse? Ma lui l'ha trovata tutta questa roba da raccontare. Non contento di questi dieci volumi, dopo una rilettura, dopo alcuni anni, ne ha aggiunti altri due, quindi sempre sulla cacciata di Adamo e Eva dal Paradiso terrestre. In questi dodici volumi, che sono un bel malloppo, a un certo punto ci sono una, due, tre, tre righe che parlano di Vallombrosa. Vallombrosa viene appena nominata, ve lo risparmio in inglese, ma in italiano dice, fitte come le foglie dell'autunno che in Vallombrosa ricoprono i ruscelli dove le ombre etrusche si addensano in archi solenni. Ecco, queste foglie d'autunno, ce le possiamo immaginare perché più o meno conosciamo l'autunno a Vallombrosa tutti, che ricoprono i ruscelli, queste ombre etrusche che si addensano in archi solenni sono praticamente i rami degli abeti che si toccano e creano queste queste immaginarie volte della foresta. Bene, brevemente, John Milton è nato nel 1608 a Londra, scrittore, poeta, è considerato uno dei letterari britannici più celebri, nonché il rappresentante più importante dell'epoca successiva, quella shakespeariana. Cresciuto in un ambiente puritano, Milton si laureò al prestigioso Christ College di Cambridge. Oltre all'apprendimento usuale del latino e del greco, il giovane Milton allargò i suoi studi e la sua cultura anche alle lingue come il francese, l'italiano, l'ebraico e forse anche l'aramaico e il siriano. Appassionato dei classici e della storia ecclesiastica e politica, si immerse con passione nei testi di Dante, Petrarca, Tasso e altri. E quindi già da qui si capisce che uno leggendo a quei tempi certi testi insomma incominciava a dimostrare un interesse verso il sud Europa, infatti all'età di circa 30 anni iniziò a viaggiare verso il sud dell'Europa, soprattutto in Francia, Italia, forse in Svizzera sulla via del ritorno verso l'Inghilterra. Il suo Grand Tour, poi faremo una parentesi sul Grand Tour, iniziò nel maggio del 1638 e durò fino all'estate del 1639, dunque vi risparmio il resto, lui praticamente arrivò nell'estate del 1638, arrivò a Firenze, a Firenze lui oltre a fare dei giri intorno alla città eccetera, ebbe l'occasione di conoscere Galileo Galilei che a quel tempo era molto vecchio, era cieco e viveva ad Arcetri. Allora che cosa è successo? Questo lo deduco io dalle letture che ho fatto eccetera, Galileo Galilei già a quel tempo era una personalità, quindi chi veniva da lontano aveva piacere di fare la conoscenza di quest'uomo, per cui John Milton si portò una lettera di introduzione che lo presentava a Galileo Galilei e nulla, fece la sua conoscenza e incominciarono a parlare. E qui io ho mandato avanti la mia immaginazione, e cioè John Milton si trova davanti quest'uomo, Galileo Galilei, un uomo che non vede, però ha una grande intelligenza, ha tanti ricordi come tutte le persone anziane che hanno tanti ricordi e incominciano a parlare di letteratura, incominciano a parlare di visite nei vari posti eccetera eccetera. Bene, faccio una parentesi, Galileo Galilei è stato educato, ha avuto la sua educazione all'Abbazia di Vallombrosa quando era giovane. L'Abbazia di Vallombrosa a quei tempi ospitava e dava educazione e istruzione a personaggi importanti, di famiglie importanti, quindi era veramente una cosa assai prestigiosa poter venire a Vallombrosa in un luogo totalmente isolato dal mondo per studiare, quindi i rampolli di grandi famiglie venivano accompagnati e fatti studiare a Vallombrosa. Bene, è logico secondo me che questa persona anziana che raccontava della sua vita sicuramente avrà raccontato anche a questo giovane poeta la sua esperienza Vallombrosa. Che è successo? Che Milton, che aveva già letto il Petrarca, l'Ariosto scusate, e quindi nell'Ariosto si parla di Vallombrosa, ha collegato le cose e diceva ma cos'è questa Vallombrosa? E Galileo Galilei gliel'avrà spiegato con i ricordi che lui aveva di quando era giovane. Ripeto, viaggio sulle ali della mia fantasia. John Milton a questo punto già ha il nome Vallombrosa, che è un nome che da solo racconta qualcosa, Vallombrosa, Valleombrosa, evoca tante cose questo nome, per cui questa Vallombrosa in qualche modo ha colpito John Milton. John Milton all'inizio di settembre del 1638 partì da Firenze e andò a Roma, che era il vero obiettivo, la vera meta del suo venire a Firenze. In autunno, quando caddero le foglie a Vallombrosa, le famose foglie che coprono i ruscelli, John Milton non c'era, era a Roma, quindi non c'è venuto qua su. Da lì si è scatenato un dibattito che dura ancora oggi. E questo ve lo voglio leggere. Secondo alcuni ricercatori, nonostante la tradizione vuole che John Milton sia stato a Vallombrosa nel 1638, in realtà l'allusione del poeta riguardo le foglie d'autunno deriverebbero dall'Ariosto che nel suo Orlando Furioso nomina appunto Vallombrosa. Rimane il fatto che la storica o astorica notizia del presunto soggiorno di Milton a Vallombrosa confluì nella letteratura di viaggio europea generando quella tradizione letteraria che da un lato indusse più o meno colti viaggiatori a seguire le tracce del leggendario scrittore, infatti si creerà poi un movimento di persone che percorreranno queste ideali tracce di John Milton alla ricerca di questa Vallombrosa. Dall'altro contribuì a trasformare un fatto supposto in evento storico avvenuto, come tante leggende che diventano leggende si creano delle sicurezze quando invece si sono create sui si dice, ma che non c'è nessun riscontro reale. Un numero imprecisabile di illustri studiosi di ieri e di oggi, citando spesso altri studiosi di ogni epoca, ha investigato e si è ingegnato a capire o comunque a tentare di dare un'attendibile versione della possibilità o meno di questa presenza Vallombrosana. Molti altri in futuro sicuramente continueranno a farlo, ma niente di sostanziale è cambiato o cambierà perché nessuno mai fino ad oggi ha trovato la, io l'ho chiamata, la prova regina, la dimostrazione certa che John Milton sia stato a Vallombrosa. Io ho preso come esempio, infatti voglio solo citare brevemente qualche esempio per ciascuna delle due posizioni e cioè John Milton è stato a Vallombrosa, John Milton non è stato a Vallombrosa. Lo scozzese David Masson, che è nato nel 1882 e morto nel 1907, è stato uno dei più grandi studiosi della vita di John Milton. David Masson fu un deciso sostenitore della teoria che Milton avesse effettivamente visitato Vallombrosa nel 1638 nel contesto di tutte le escursioni di Milton intorno a Firenze. La sua fu tuttavia solo una teoria basata sui si dice, si dice perché lui è dell'Ottocento, Milton 200 anni prima era passato da Firenze. Dice questo Masson che egli affermava appunto di avere la possibilità di mostrare non meglio precisate, fra virgolette, reliquie, qui ne parlammo, che lei mi disse ma c'è un personaggio che diceva di avere delle lettere a conferma dell'ipotesi storica, ma tali prove non vennero mai rese di pubblico dominio, per cui finché non vengono fuori queste lettere o non c'è una fotografia di John Milton davanti all'abbazia fatta nel 1638, chi lo sa. La teoria opposta, che prendo come esempio, è dei contemporanei Gordon Campbell e Thomas Korn, autori di John Milton Life, Works and Thought, secondo i quali non c'è uno straccio di prova dell'evidenza di quella visita che oltretutto, e questo è importante, non faceva parte degli itinerari dei viaggiatori del XVII secolo. Vallombrosa non era negli itinerari, era Roma, era Firenze per altri motivi, ma non Vallombrosa. Vallombrosa rimaneva un posto totalmente isolato e la gente non si poneva il problema, quindi loro stavano bene, nessuno li disturbava, ma è durata poco. Va bene, lo stesso Edward Cheney nel suo affronta con grande entusiasmo in quella che lo definisce la tradizione letterale, il complicato argomento della visita di Milton a Vallombrosa e gli stesso è convinto a Sertore che Milton non ha mai visitato Vallombrosa, ma ha piuttosto preso in prestito questo nome pittoresco da Lodovicariosto di nuovo e dalla lettura del suo Orlando Furioso. Per concludere con Milton, io ho scritto probabilmente non sarà mai verificabile nessuna teoria o controteoria, rimane tuttavia il fatto, visto con gli occhi di noi Vallombrosani, che il grande poeta inglese con poche parole creò un movimento culturale e storico che dal 700 al 900, nonostante la difficoltà del viaggio verso una località completamente isolata dal resto del mondo, ma ciò non scoraggiò l'entusiasmo dei viaggiatori, calentò un numero imprecisabile di gran turisti alla ricerca del paradiso perduto. Ancora oggi, a distanza di secoli dal presunto fatto, queste poche parole, minuscolo accenno inserito nel contesto di un poema che è poco definirlo colossale, ha una sua indistruttibile forza pubblicitaria a favore di Vallombrosa ed è questo che a noi Vallombrosani in fondo piace. Quindi noi siamo riconoscenti a John Milton che ha dato l'avvio a un movimento di cultura e di turismo notevole. Bene, ho fatto questo prologo di John Milton per un motivo appunto perché è quello che in qualche modo ha aperto una strada e una forma di cultura. allora, io mi sono preso qui degli appunti, dunque una prassi culturale affascinante, molto antica, quella del Grand Tour, che altro non è che l'imponente tradizione del viaggio di istruzione, di formazione, di svago in Italia effettuata da giovani provenienti dalle elite europee in generale e anglosassoni in particolare. Oggi noi parliamo tanto di turismo e di turisti, ma ci siamo mai chiesti da dove viene la parola turista? Viene proprio dal Grand Tour, che una volta si usava questa espressione francese, che però poi in inglese è Grand Tour, quindi è la stessa cosa, italiano, francese, inglese, Grand Tour più o meno, e da lì poi si parlava di Grand Touristi ed è rimasta la parola turista, quindi vengono da quelle prime forme di viaggio che permettevano a personaggi di famiglie benestanti più o meno, ma non solo, non solo, perché vi racconterò poi di due giovani americani che sono riusciti a venire in questo paese sottosviluppato, come a quei tempi dicevano, avevano paura a mandare i figli in Europa perché dice, ma lì è pericoloso, ci sono i briganti, eccetera, eccetera, e nulla, loro sono riusciti a fare questo Grand Tour. Bene, quindi, ecco, una pubblicazione di non molti anni or sono del maggiore studioso italiano di questo fenomeno, Attilio Brilli, aretino e insegnante di letteratura anglo-americana all'Università di Siena, reca questo titolo, Quando viaggiare era un'arte, il romanzo del Grand Tour, si tratta di un titolo che da solo sintetizza una consuetudine culturale plurisecolare, quella, basta vi risparmi il resto, cioè era diventato una forma di istruzione, si veniva a fare il Grand Tour in Europa, soprattutto dai paesi come l'Inghilterra, per una forma di istruzione si visitava Parigi, si visitava un po' la Francia, si andava soprattutto, la ricerca era verso l'Italia e poi si ritornava su e da lì poi scattavano, diciamo, altre partenze perché tutti parlavano di questo Grand Tour e altri poi avevano voglia di farlo. Per cui questo Grand Tour è partito soprattutto da John Milton, il quale appunto con queste poche parole, le foglie autunnali di Vallombrosa, ha messo la curiosità in tante persone. Io sono andato a guardare, sto facendo una ricerca e dopo John Milton il primo personaggio che ho trovato che è venuto a Vallombrosa è un certo John Talman, londinese, nato nel 1677 e morto nel 1726, lui visitò Vallombrosa fra il 1709 e il 1717. Lui era un antiquario, un collezionista eccetera, lui cercava disegni eccetera. Poi lui venne a Vallombrosa perché era in contatto con, dunque lui divenne amico di Papa Clemente XI, a sua volta grande appassionato collezionista. John Talman raccolse una collezione impressionante di cose e venne in contatto con dei monaci che aveva dei legami con membri dell'ordine Vallombrosano ed ebbe quindi l'occasione di trascorrere alcuni giorni a Vallombrosa in data imprecisata fra il 1709 e il 1717 dove si eseguì disegni di alcune reliquie di San Bernardo allora conservate nell'abbazia. E quindi attraverso questi disegni abbiamo potuto stabilire che lui è stato a Vallombrosa. Quindi siamo nel 1709, pensate che dal 1638 non c'è nessuno ancora che è venuto a Vallombrosa anche perché si è dovuto aspettare la pubblicazione di Paradise Lost eccetera. Un'altra visita che insomma questa è un po' sui generi, non è proprio un viaggiatore tipico, è del 1745 indicativamente ed è Ignazio Hughford. Allora questo Ignazio Hughford era figlio di Henry, orologiaio inglese che lavorava per la corte granducale fiorentina e di Bridge Ratareff. Nacque a Pisa nel 1703, quindi era un italo-inglese. I genitori di Ignazio vivevano a Firenze e si trovavano momentaneamente a Pisa quando il figlio decise di nascere ed infatti appena possibile tornarono nella residenza loro fiorentina. Poi lui ricevette un'educazione a Firenze eccetera. Suo fratello maggiore Ferdinand Henry, anche egli artista, fu nel 1743 e per 18 anni, e qui ora io sarò contestato, abate dell'abbazia di Vallombrosa col nome Don Enrico e grazie a questa circostanza Ignazio ebbe la fortunata opportunità di lavorare per il monastero. Realizzò così soprattutto nel 1745 14 tele e numerosi altri quadri che si trovano nell'antico refettorio e sopra il corode all'interno della chiesa. Tanti altri lavori vennero da lui realizzati in chiese e chiostri fiorentini e numerosi visitatori stranieri in occasione del Grand Tour si fecero ritrarre da Ignazio durante il loro passaggio nella città Toscana. Bene, io a questo proposito adesso vorrei, siccome appunto il padre Piedamiano ha un'altra tesi, vorrei dare un attimino la parola a lui così io mi schiarisco la voce. Per non fare come si dice il convitato di Pietra, star qui zitto, qualche appunto che viene da una conoscenza non opposta ma che ha delle precisazioni. Per Galileo noi sappiamo che i suoi rapporti sono stati col monastero Vallombrosano di San Michele di Passignano in Val di Pesa dove lui probabilmente ha avuto un insegnamento di matematiche da un nostro monaco, Epifanio Dalfiano che tra l'altro era uno splendido incisore. Successivamente ha fatto scuola di matematiche agli studenti Vallombrosani a Passignano. Quanto a Milton, un amico, lui aveva dei rapporti fittissimi con i Vallombrosani, di colleghi suoi di astronomia, uno poi ha fatto una pessima fine, un abate Vallombrosano, Orazio Morandi che si interessava anche di astrologia ed era molto amico di Galileo, ha fatto come si faceva allora una predizione sulla morte vicina del Papa Urbano VIII e il Papa l'ha fatto imprigionare nelle carcere di Tordinona a Roma. Nel carcere poi è morto. È uscito anche un libro su questo che aveva una splendida biblioteca tra l'altro, questo Orazio Morandi ma come dottrina stava un po' sull'orlo. Poi ha avuto dei nipoti che erano monache Vallombrosane, ha avuto rapporti anche familiari. Quanto a Milton, a me è stato detto da un amico, Michael Meredith, che è stato direttore delle biblioteche del college di Eton, che si trova una lettera di Milton scritta a un suo amico nella quale dice «Io a Vallombrosa ho suonato l'organo del paradisino che voi sapete era l'eremo». Ecco qui, quando uscisse la lettera, ma vorrei domandare all'amico che è ancora una persona anziana come me, insomma. Per Enrico, o come si dice, è un abate Vallombrosano. Ma l'abate è un po' un discorso da chiarire anche perché noi nella letteratura, specialmente di tipo francese e poi diventata comune, chiamiamo abati i preti, tanto per dire, no, l'abbè anche ora, mentre l'abate è una carica specifica dei superiori dei monasteri d'Endettini. Quanto a Enrico, lui è stato pochissimo tempo abate del monastero di San Salvatore di Vaiano che sta sopra Prato. Aveva cominciato a fare una carriera, no, perché si procedeva per gradini. Però il suo temperamento lo portava a una solitudine anche perché probabilmente cominciava già a lavorare queste scagliole. Enrico è il personaggio più importante dell'arte, della scuola toscana della scagliola. Se voi vedete i pochi, le poche scagliole che sono rimaste, che noi abbiamo nel museo, poi ce ne sono a Pitti, ce ne sono all'Opificio delle Pietredure, a Windsor, perché essendo di famiglia inglese i due fratelli, lo monaco e il pittore avevano dei rapporti e anche degli acquirenti inglesi che venivano qui e compravano tavole. Però lui non è mai stato abate, tranne questi forse un anno o due e poi ha chiesto di ritirarsi all'eremo delle celle, che è il vero nome, il paradiso, il paradisino è un nome dato da un monaco eremita a metà del Seicento, che poi chiaramente è diventato molto di moda, con la stagione turistica, alla fine dell'Ottocento, un conto chiamare quel complesso l'eremo delle celle e un conto chiamarlo il paradisino. E lui è morto lì, è sepolto in chiesa e ha fatto infinite scagliole. Noi stiamo con una studiosa, Anna Maria, che è la studiosa delle scagliole, ha già fatto un libro così sulle scagliole italiane e stiamo preparando una mostra l'anno prossimo, le nostre scagliole con altre che la Massinelli. È una che insegna a Massa Carrara arte e fa avanti e indietro dall'Italia all'America perché è una delle curatrici del museo, Paul Ghetti. E ecco, quanto a Enrico, poi Ignazio noi abbiamo i dipinti del refettorio, abbiamo dei dipinti in casa, insomma ne abbiamo parecchie. Bene. Allora, la ricerca che io sto facendo, mi ho dato un nome provvisorio, Presenze Vallombrosane. Perché? Perché a me quello che interessa è andare a cercare personaggi che comunque hanno avuto a che fare in qualche modo con Vallombrosa. e durante questa ricerca si fanno delle scoperte di ogni genere. E allora a volte mi viene proprio in mente, dico, ma cosa ci venivano a fare a Vallombrosa queste persone? E allora sto facendo un elenchino, ora non ce l'ho qui, un elenchino di quello che si viene a fare a Vallombrosa a quei tempi, no? Si scappa dalla moglie, si viene a mangiare le patate buone, si scappa da una guerra, ci sono tanti motivi. Si viene per dipingere, si viene per scrivere una poesia, per fare un racconto in versi, no? E io sto raccogliendo un pochino tutte queste curiosità. Ce n'è una che vi voglio, una molto bellina, molto bellina, di questo Hugh Prime Rose Dean, nato nel 1758 e morto nel 1784. Fu a Vallombrosa nel 1776. Questo pittore irlandese riuscì a raggiungere l'Italia grazie al mecenatismo del nobile inglese Henry Temple, visconte di Palmerston. A Roma, nonostante la giovane età, si fece notare perché facente parte di una prestigiosa comunità di artisti irlandesi che praticava in città nella seconda metà del XVIII secolo. Il suo rapporto con Vallombrosa è del tutto particolare. Infatti l'artista, decidendo di vivere a Roma e poi a Firenze, di fatto abbandonò in Inghilterra la giovane moglie e un figlio. Un comportamento chiaramente irresponsabile, non accettato da quest'ultima. Fu così che la consorte, erano tutte e due molto giovani, lui aveva 18 anni, lei forse 17. Fu così che la consorte, dietro suggerimento proprio di quel Lord Palmerston, dal quale ebbe anche i soldi per affrontare il lungo viaggio, cioè questo Palmerston aveva pagato il viaggio a questo giovane per andare a Roma e raggiungere questa colonia di artisti irlandesi. E lei andò da Palmerston e gli disse, ora però i soldi tu me li dai anche a me e vado a cercare mio marito. Bene, nel 1776 decise di andare a cercare il marito. La scena dell'incontro è raccontata dallo scrittore inglese Edward Edwards, vissuto dal 1812 al 1836 con un poco umorismo. Ho tradotto dall'inglese e lui scrive, l'incontro fra i due fu piuttosto divertente. A Dean capitò di starsene sulla porta della locanda dove abitava. Allora voi immaginatevi quest'uomo che se ne sta appoggiato alla porta della locanda, fuma la sua sigaretta tranquillamente e mentre fuma vede da lontano arrivare una donna. Ora a quei tempi non si viaggiava con le valigie, se uno si portava dietro qualcosa usava magari il bastone con attaccato il sacco dietro e uno se lo portava sulla spalla. Questo portava a far sì che uno camminasse un pochino piegato in avanti. Quindi lui vede questa donna che arriva e la vede affaticata, bisognosa d'aiuto e quindi lui in un impulso di generosità va verso questa donna e dice signora ma la posso aiutare? Lei alza la testa e lui riconosce sua moglie. Naturalmente sarà successo di tutto, di più. Però questo che ha raccontato questa scena e che la descrive in poche parole dice si offrì di aiutarla ma quando scoprì che quella signora era sua moglie, virgola, egli scappò a Vallombrosa dove rimase alcuni giorni per recuperare il suo stato d'animo. Siccome sapeva che la moglie non poteva venire a Vallombrosa, lui si è rifugiato a Vallombrosa perché naturalmente a 18 anni questa donna con il figlio forse sarà stato un errore, capito? E quindi lui era scappato per stare lontano dai suoi obblighi diciamo di padre, capito? E allora nulla, lui scappò a Vallombrosa. Ecco e io l'ho inserito, per me è una presenza vallombrosana perché comunque ha avuto qualche cosa a che fare con Vallombrosa come pure altri personaggi. Beh, è molto interessante la storia di Elzelina van Ael de Jonghe che si è inventata, che è nata a Vallombrosa nel 1778. Questa è una storia molto surreale, questa era una bambina che aveva letto tantissimo da giovane e anche lei era stata colpita da questo nome Vallombrosa e la sua fantasia era volata, 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 si era creata una doppia vita eccetera eccetera, ma questo un giorno spero che avrete l'occasione di leggerlo, questo ve lo risparmio è molto più lungo, però è molto interessante di quanta influenza poteva avere una piccola notizia letta dell'Ariosto o di Milton eccetera. Mentre invece il primo personaggio che si sa che ufficialmente è stato a Vallombrosa, di cui parlano tanti libri e che ha scritto appunto un bel resoconto, è questo William Thomas Peckford che è nato a Londra nel 1760 e lui è stato a Vallombrosa nel 1780 e lui era un uomo, un giovane uomo come si dice qui, grande collezionista, critico d'arte, scrittore di viaggio e anche politico, reputato quale cittadino non nobile più ricco d'Inghilterra, cioè era una persona ricchissima che appunto si dedicava al collezionismo, a quei tempi insomma il collezionismo andava molto molto forte e lui ha scritto molto su Vallombrosa e c'è molto da tradurre sulla sua visita a Vallombrosa, lui venne a Vallombrosa praticamente a cavallo con un amico quando a Vallombrosa era difficile arrivare. Ora io voglio fare una parentesi, io vorrei insieme a voi provare a immaginare che cosa voleva dire a quei tempi viaggiare e spostarsi in un posto dove non c'è niente, allora intanto venire a Vallombrosa veniva chiamata la spedizione a Vallombrosa e voi dovete immaginarvi che uno che partiva da Firenze praticamente prendeva una carrozza a meno che non avesse un cavallo, prendeva una carrozza, andava a Pontassieve facendo la cosiddetta strada maestra fiorentina che era quella che costeggiava il fiume e che portava a Pontassieve, a Pontassieve c'era l'unico ponte che permetteva attraversando la sieve, permetteva di venire su questo versante della montagna e iniziava poi la salita. Con la carrozza si riusciva ad arrivare pian pianino, insomma per queste strade cosiddette barrocciabili, si riusciva ad arrivare fino a Pelago, a Pelago era la fine del mondo, lì finiva tutto e da lì iniziavano i problemi, a Pelago bisognava lasciare la carrozza, vennero fuori le prime guide, infatti il primo di cui si parla è questo Antonio da Pelago che ormai era conosciuto come la guida che permetteva di arrivare a Vallombrosa e eventualmente anche fino a Camaldo di Laverna e da Pelago si ripartiva, come si ripartiva? A piedi soprattutto, oppure si proseguiva perché aveva il cavallo si proseguiva a cavallo, oppure a dorso di mulo, non di mulo scusate, di asino. Quando incominciarono a muoversi le prime donne, loro arrivavano con la carrozza fino a Pelago, però a cavallo con le sottane che portavano a quei tempi era impossibile andare, allora usavano magari l'asinello, però stando sedute di traverso, non come l'uomo a cavallo proprio e questo naturalmente era molto faticoso, oltre che molto pericoloso perché si rischiava continuamente di cadere. Venne fuori un altro mezzo di trasporto che la gente se lo inventò lì per lì ed è la treggia, che ieri ho fatto vedere in una fotografia quella treggia tirata dai buoi alla quale venivano attaccati i tronchi d'albero. La treggia praticamente, anzi ce l'ho qui, la treggia è un carro agricolo senza ruote, una sorta di slitta con il piano di carico di vimini in tessuti, poggiante su due tronchi o stanghe struscianti sul terreno, uniti a vu, quindi così, al gioco della coppia di buoi che lo trainano, quindi si attaccava in mezzo ai due buoi, questi buoi trainavano questa treggia e nulla, e lì dentro si sedevano su due sgabellini le signore, due per volta di solito, naturalmente quando arrivavano a Vallombrosa erano distrutte. Da Pelago, praticamente, che cosa succedeva? Si scendeva giù al Vicano, non so se qualcuno conosce bene Pelago, si scendeva giù al Vicano, si attraversava questo ponticello che c'era sul Vicano, poi si saliva su questa montagna fino a Ristonchi, si riscendeva giù fino a Paterno e da Paterno poi si scendeva ancora di più, si ritornava al Vicano, si attraversava o il ponte di Pagiano o il ponte del mulino di Tosi e poi si risaliva dall'altra parte. Tosi veniva praticamente evitata, non ci se ne accorgeva nemmeno di Tosi, perché Tosi rimaneva fuori mano, perché la gente poi curvava verso destra e andava su a Vallombrosa, quindi queste tre casupole che c'erano i Tosi non si notavano nemmeno. Quello che è molto bello e quello che raccontano questi viaggiatori è il passaggio in questa valle sotto Tosi. Io vi inviterei a volte, io sono stato proprio alla fine dell'inverno, ho preso il mio motorino e sono andato in questa valle a guardarla. Bisogna considerare che gli inglesi viaggiatori non hanno montagne, hanno solo colline e molti viaggiatori all'inizio erano inglesi. Questi viaggiatori rimanevano letteralmente impressionati da queste, come si può dire, queste pareti ripidissime, rocciose, impressionanti. Dovete immaginare che non c'erano punti di riferimento, non c'erano case, non c'erano villaggi, Tosi non esisteva quasi, capito? Quindi era impressionante, c'era questo viottolino magari a strapiombo, cadevano i ciotoli e quindi vivevano questa esperienza con una sorta anche di timore. Quindi rimaneva in loro una forte impressione. Poi naturalmente una volta passato Tosi iniziava la salita nel bosco e poi alla fine c'era questo spettacolare, questa apertura improvvisa sul pratone di Vallombrosa e questa maestosa abbazia che si vedeva dietro. E lì naturalmente tiravano tutti un respiro di sollievo perché la spedizione aveva avuto successo. Arrivavano alle porte dell'abbazia e chiedevano ospitalità. Normalmente quasi sempre portavano una lettera di accompagnamento da presentare all'abate per essere ospitati tre giorni, di solito a volte solo gli uomini. Per cui quando arrivarono le prime donne, infatti una delle prime donne è stata la Elizabeth Barrett Browning che lei era convinta di poter venire a Vallombrosa e starci due mesi, tre mesi. Lei era molto malata, aveva avuto una forma probabilmente di poliomelite da piccola, quindi aveva le gambe insomma veniva sempre portata in braccio su delle specie di carrozzelle eccetera e in più aveva avuto una forma di, o ce l'aveva, come tanti tanti viaggiatori di quel tempo, di tubercolosi. La tubercolosi a quel tempo veramente faceva strage e io nelle mie ricerche ho visto tanti tanti personaggi che erano tutti malati di tubercolosi. Quindi Vallombrosa rappresentava un posto eccezionale perché il clima era eccezionale eccetera e la Barrett Browning era convinta che avrebbe potuto essere ospitata a Vallombrosa per due o tre mesi. Quando lei arrivò quassù che ci arrivò con armi e bagagli nel senso bauli si era portata proprio per un soggiorno che lei era sicura sarebbe durato un paio di mesi. Arrivata quassù l'abate disse signori miei, voi signori potete entrare nel monastero, però la signora non può. Nel frattempo a differenza delle primissime signore che erano salite fino a Vallombrosa che veramente non avevano trovato un posto dove stare, i monaci avevano organizzato, come lei dice, due stanzine a un salottino dove oltretutto li portavano da mangiare eccetera perché erano trattati molto bene e lì rimanevano le signore. I signori venivano infatti ospitati nell'abbazia, infatti lei diceva in una sua lettera perché naturalmente queste cose si ricostruiscono dalle lettere della Barrett Browning, diceva porteranno Robert il marito nel monastero e lasceranno Wilson che era la sua dama di compagnia e me all'esterno con altre bestie immonde, non ci sarà permesso di cenare insieme osodire, forse potremmo avere un caffè qualche volta oppure fare una passeggiata ma comunque quello sarà un divorzio, in questo modo loro vivevano questo soggiorno a Vallombrosa che poi il soggiorno si riduceva molto spesso a un pernottamento, le persone pernottavano, potevano dire di essere state a Vallombrosa e ripartivano il giorno dopo, chi proseguiva per Camaldoli e chi tornava indietro e ci sono tanti esempi, ora andiamo un attimino, uno che sicuramente ci ha passato un bel po' di tempo, è Louis Goffier che ha lasciato tante cose dipinte, ha fatto tanti quadri e anche Louis Goffier era malato, infatti la chiamavano in maladie de poitrine, malattia di petto e Goffier ha vissuto a Firenze per tanto tempo, è stato quassù, ha realizzato almeno cinque due veduti di Vallombrosa che sono più o meno rintracciabili, noi l'abbiamo messo fra l'altro alcune di queste vedute, l'abbiamo messo in viaggiatori e villeggianti e poi nel frattempo si era sposato con questa moglie Pauline che però nel 1801 anche lei morì di tubercolosi improvvisamente e infatti questo Castellan, Castellan infatti descrive che quest'uomo aveva contagiato la tubercolosi alla moglie, aveva contagiato la moglie e in effetti quando lei morì, lui morì una settimana dopo di lei, un po' per la malattia, un po' per la disperazione appunto di questa morte. Bene, un'altra presenza che a me piace particolarmente un'altra presenza di Vallombrosa, maresa come si fa questo per alzarlo? non lo sai, un pochino, no no non così, pensiamo su così, va sganciato, non vorrei far danni ma forse va bene, vai, ma va bene così, no perché mi calava lentamente, ok, è questo Thomas Girtin, Thomas Girtin nato a Londra nel 1775 e morto nel 1802, dunque fu amico e rivale nell'arte pittorica di William Tanner, nato nello stesso anno ma a lui sopravvissuto di 49 anni, infatti Girtin anche lui morì giovane di tubercolosi. Girtin imparò a disegnare da giovanissimo sotto la guida del pittore inglese Thomas Malton, dopodiché fece il suo apprendistato come acquarellista topografico. Già all'età di 19 anni Girtin iniziò ad esporre i suoi quadri, eccetera, eccetera, nel 1800 si sposò e così via, no? Allora, insieme all'amico William Turner, questo Girtin andava sempre nella casa, nello studio di un certo dottor Thomas Monroe che appunto ospitava questi pittori e gli permetteva, permetteva loro di fare dei quadri su disegni che lui aveva. Cioè, per esempio, io sono stato a Londra a vedere i disegni di William Turner, no? Avevano dei blocchettini piccini così, oppure più grandi. Come noi oggi si fa una fotografia, loro con questi blocchettini facevano uno schizzo di quello che vedevano, un albero, un palazzo, l'abbazia di Vallombrosa, le cascate del Vicano, eccetera, eccetera, in cinque minuti. Poi lo portavano a casa e con comodo prendevano questi disegni e se li elaboravano, no? Molti di questi disegni, diciamo, nello studio di Thomas Monroe, venivano da un altro pittore, questo... eccolo qua, Cosens, John Robert Cosens, che faceva tutti questi schizzi così, no? Di alberi, eccetera. Poi glieli regalava a questo Monroe, perché tanto a lui non servivano, non ci dava nessuna importanza. Questi ragazzi che volevano imparare l'arte dell'acquarello andavano lì, lui gli dava un piatto di minestra e iniziavano a disegnare. Questo Girtin trovò un disegno dell'abbazia, che per ora io ce l'ho qui in fotocopia, diciamo, che è questo. Si vede un'abbazia, però una visione speculare dell'abbazia, e cioè dove la torre, che in realtà dovrebbe essere sulla destra, dove c'è la posta, e il paradisino dovrebbe essere sulla sinistra, per chi guarda la facciata. Invece qui è tutto rovesciato. Paradisino è sulla destra, la torre è sulla sinistra. Questo, diciamo, è stata una scelta stilistica di Girtin, perché l'immagine, come viene insegnato anche nelle scuole di pittura e di fotografia oggi, si legge, si tende a leggerla da destra verso sinistra. Quindi lui che cosa ha fatto? Siccome disegnavano su dei blocchetti dove la carta era velina proprio, quindi era facilissimo girare la carta e interpretare il disegno alla rovescia, capito? E lui ha fatto questo. Questo Thomas Girtin non è mai stato a Vallombrosa, però è entrato di diritto nelle mie cosiddette presenze Vallombrosane proprio per il fatto che ha fatto questo bellissimo disegno del quale mai nessuno aveva saputo nulla e che io invece sono andato e ho fatto tirare fuori a Londra, alla Tate Gallery. Sapevo che era lì, ho fatto richiesta per vedere questo disegno e con grande emozione me l'hanno portato su un carrello. Si maneggia in guanti bianchi dopo essersi lavati le mani, perché lì è così. Si può andare solo con una matita e un pezzo di carta, non si può portare neurologi né cellulari, nulla che possa in qualche modo essere, che possa danneggiare anche, c'è molta serietà in tutto questo. Per cui anche Girtin è entrato nelle mie presenze Vallombrosane. Riportata nel libro Margaret Fuller, scritto da Margaret Bell e Anna Eleonore Roosevelt, che era la moglie del 32esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Delano Roosevelt, che anche lei era stata quassù e anche lì sto studiando per avere notizie sulla sua presenza Vallombrosa, ed è stata lei che ha portato questa notizia, che appunto dice questo Chopin tubercolotico, lo definisce, fu a Vallombrosa, è stata a Vallombrosa con George Sand, che era appunto la sua compagna a quei tempi, provando a migliorare la sua salute, ma insomma non ce la fece, capito? Bene, io vorrei lasciare un po' la parola a lui, perché se no non mi chiedo mai. Qualche brisolano sullo sfondo, per esempio, noi abbiamo, come Nicola sa, alcune pagine sono state pubblicate, abbiamo i registri dei visitatori dagli anni 1824 fino al momento della soppressione del Regno d'Italia, vale a dire, fino ai primi del 1866, tra l'altro nel 1846 abbiamo la firma dei due Browning, come nel 1826, nel 1826 passa qui la Mary, la moglie di Shelley, dopo la morte di lui, che probabilmente pernava in Inghilterra, poi i Trollo, perché sono una famiglia buffissima di americani che hanno vissuto a Firenze e campavano facendo le guide turistiche ad alto livello, la madre e i figli, questi venivano quasi tutti gli anni. La Browning, che era un po' nervosetta forse per la salute, scrive a una sua amica, perché ora si sta pubblicando tutto l'epistolario di lui e di lei, che sono già una trentina di volumi, scrivendo a una sua amica, dice, i monaci mi hanno rifiutato e io per la rabbia ho preso a calci il cancello, che è ancora quello che vedete all'inizio. Gli ospiti, diciamo, non importanti, venivano ospitati grossomodo nella metà dell'attuale albergo La Foresta, perché una parte verso Saltino è stata costruita posteriormente, e insomma, non è che li curassero tanto, ma davano ospitalità a tutti. Ecco, ma bisogna, come quello studio, quel cura appassionato di arte, che io non conoscevo, è stato qui nel 1780, come Nicola ci ha ricordato, e probabilmente in relazione a una sua amicizia con il nostro monaco, che era il bibliotecario dell'Abbazia, l'Otario Bucetti, sul quale è stata fatta anche una tesi di laurea, che oltre al bibliotecario aveva creato un museo tipico settecentesco, una Wunderkammer, cioè fossili, vasi, dipinti e cose simili. Ecco, perciò probabilmente questo è stato qui. Solamente che la documentazione nostra della vita quotidiana dei monaci è consegnata a quel tipo di cronaca che in Toscana si chiamano le ricordanze. Cioè, il diario delle comunità religiose. C'erano anche le ricordanze delle grandi famiglie, sono state pubblicate le ricordanze dei Corsini del Trecento. Noi ce l'abbiamo, ora all'Archivio di Stato, dalla fine del Quattrocento fino a oggi, perché si continua. Indubbiamente in queste ricordanze, che venivano affidate dall'abate successivamente a dei monaci, emerge la cultura e l'interesse di questi diaristi. Alcuni segnano moltissimo le funzioni, altri si interessano della cultura e dei poderi, altri notizie di meteorologia, ma dei visitatori, a dire la verità, si parla quasi niente. Io ricordo, citato in un libro di ricordanze, che abbiamo in casa invece, che ai primi del Settecento, viene a Vallombrosa, l'ambasciatore inglese Newton, si chiamava anche lui Newton, presso la corte granducale. E tanti venivano, insomma. Anche nel Settecento non c'è Anna Maria Crinò, che è un anglista, che anni fa ha fatto un libro poderoso in italiano sul fenomeno gli inglesi in Toscana, che molti venivano mantenuti da Granduca e pilotati verso le visite un po' classiche, Vallombrosa, Camaldoli, Laverna. Ma sarà una bella cosa. Diciamo che io infatti a lui, quando ho incominciato a tartassarlo con queste notizie, gli chiedevo sempre, io vorrei sapere se questa ricerca è mai stata fatta, se merita di essere portata avanti. E' fondamentale. Io non ho trovato niente, assolutamente, nessuno che abbia approfondito proprio sistematicamente la conoscenza di questi personaggi che, ripeto, affrontavano questa tremenda impresa per venire fino a Vallombrosa, per magari starci una o due notti e poi ripartire e poter dire io sono stata a Vallombrosa. Uno di questi è poi la conclusione di tutto, perché potrei stare qui a raccontarvi per tanto tempo, ripeto, per ora io ho sviluppato 41 personaggi che ho trovato, ma ne ho altre tanti in lista d'attesa, quindi che li devo sviluppare. Però un personaggio che mi piace un attimino diciamo, leggervi qualcosa e concludere, è questo Bayard Taylor, nato nel 1825 e morto nel 1878, dunque nato in Pennsylvania, fu poeta, critico letterario, traduttore di testi e corrispondente di viaggio. Vorace e curioso lettore durante la sua infanzia, a soli 19 anni pubblicò a Philadelphia il suo primo libro di poemi e questo gli permise di guadagnare i soldi che gli servivano per realizzare il suo sogno, visitare l'Europa. Allora, in più, come scrive nei suoi racconti dai giornali United States Gazette e Saturday Evening Post, ottenne un piccolo anticipo finanziario di 50 dollari per realizzare alcuni articoli legati al suo viaggio, cioè praticamente un corrispondente di viaggio di altri tempi, quindi lui scriveva, impostava e spediva in America dove arrivavano magari dopo 15 giorni e venivano pubblicate su questi giornali. Alla fine, diciamo, si ritrovò con 140 dollari in tasca e così il primo di luglio del 1844 Bayard, insieme a suo cugino Franklin Taylor e a Barclay Pennock, anche questo è un personaggio che svilupperò nelle mie ricerche, suo ex insegnante di latino, si imbarcò a New York sul mercantile Oxford diretto a Liverpool dove arrivò 28 giorni dopo. I due anni successivi furono spesi per spostarsi quasi sempre a piedi e vivendo con il minimo dei soldi disponibili attraverso l'Inghilterra, la Germania, la Francia, la Svizzera e l'Italia, ci rendiamo conto a piedi. Va bene, ci ha messo due anni, però insomma chissà quante scarpe ha fatto fuori. Questo lungo tour Bayard lo raccontava attraverso numerose corrispondenze assai apprezzate dai vari giornali statunitensi che contribuendo con successivi finanziamenti gli permisero di avere una certa tranquillità economica in Europa dove percorse oltre 3.000 miglia. Al suo ritorno in America gli fu consigliato di riunire tutte queste lettere scritte in un libro di due volumi che venne pubblicato nel 1846. Questo lavoro ebbe un successo strepitoso al punto che furono realizzate ben 24 edizioni nei successivi 13 anni. Cioè c'era veramente in America una fame di sapere come era fatta l'Europa, cosa c'era, dove era l'Italia, cosa si visitava eccetera. Bene, questo Bayard Taylor ha scritto un pellegrinaggio a Vallombrosa, è Pilma Grigge to Vallombrosa, che è un poema praticamente, lui ha scritto tutto in versi, molto lungo, sulla sua esperienza vallombrosana. Io ho fatto una traduzione, invece che tradurre il poema pari pari, io l'ho diciamo tradotto in maniera tale che si capisca semplicemente il racconto che lui fa. E in effetti racconta Bayard che, dunque, in verità Vallombrosa ha un suono romantico. La frase, un pellegrinaggio a Vallombrosa, richiama immagini di rosari e croci e monaci dalla testa rasata. Avessimo vissuto nei tempi passati, certe cose avrebbero veramente accompagnato il nostro viaggio al Santo Monastero. Allora saremmo andati a piedi scalzi, recitando preghiere, mentre arrancavamo lungo le sponde dell'Arno e su per le ripide vie degli Appennini. Abbiamo lasciato Firenze presto, prendendo la via che porta da Porta della Croce lungo la riva nord dell'Arno. Era una mattina luminosa, ma c'era un'ombra di nuvole sulle colline che un occhio esperto avrebbe preso come pronostico di pioggia. Durante il loro cammino, questo lo scrivo io, lungo il fiume asciutto a causa della siccità della passata estate. Questo è anche un aspetto interessante. Questi viaggiatori descrivono quello che vedono, quindi si capisce la situazione. Qui si capisce, per esempio, che c'era stata una forte siccità e tutto era secco. Incontrano numerosi contadini, come scrive lui, che si dirigono verso la città, forse per qualche mercato, ed arrivano a Ponte Sieve, come lo mette lui. Dopo averla attraversata, iniziano la salita verso la montagna, ma ben presto si ritrovano sotto continui acquazzoni che li costringono spesso a cercare riparo in qualche casa lungo la strada. e racconta questo bai. In una di queste abbiamo fatto una colazione col duro pane nero della zona, reso gradevole al palato dall'aggiunta di formaggio di montagna e fette di salame. Eravamo molto divertiti di conversare con i semplici padroni di casa e i loro timidi bambini che assomigliavano a degli zingari. Immaginiamoci, appunto, questi bambini, insomma, erano tempi in cui non c'era la camicetta o che questi bambini erano scalzi e mezzi ignudi. E da questa gente semplice raccolgono informazioni sul loro modo di vivere e su quanto una famiglia di sei persone consuma in un anno. E infatti scrive 20 piccole botti di vino e 10 di olio. Era il fabbisogno di una famiglia in un anno. Statistiche americane. Esatto. E poi dice era quasi il tramonto quando abbiamo raggiunto Pellago. Lo scrive proprio così. Ricordiamoci che per quanto speditamente i due si spostavano a piedi e qui furono costretti a fermarsi. Passarono la notte da una donna del villaggio che servì loro una cena eccellente e durante la sosta Bayard cercò di immaginarsi come Milton e Dante potevano avere visto quegli stessi panorami che lui stava osservando con ammirazione. Allora da Pellago Milton non l'ha visto. Ma nemmeno Dante perché Dante andava in Casentino. Giusto? Ma poi è andato in Mugello. E può darsi. No, non c'è venuto perché Dante oltretutto ha lasciato ne ha parlato di Vallombrosa. Però No, lui scita al Prato Magno il sole che sorge dal Prato Magno quanta Vallombrosa mette all'inferno una batte di Vallombrosa nel girone dei traditori perciò che noi in modo ci hanno fatto dirigere in chiesa. Allora una presenza Vallombrosa grande. No, lui è un tipo Naturalmente a Pellago si sviluppa anche una prima forma di alloggio di albergare e questo è un argomento anche che sto sviluppando e cioè come le persone che si spostavano trovavano alloggio durante la lungo la strada che percorrevano e addirittura in un libro su una pontasieve antica ci sono delle fotografie che ci fanno rivedere dove era un posto dove si poteva dormire dove si poteva mangiare sono argomenti molto interessanti da sviluppare perché torno a ripetere non era un viaggio semplice era un viaggio molto lungo riprende siamo partiti presto la mattina dopo attraversato il burrone e preso la via ben lastricata verso il monastero lungo il fianco della montagna le pietre sono levigate dalle slitte quindi dalle tregge usate per le signore e per le merci trainate dai bianchi buoi toscani le colline sono coperte di rigogliosi castagne e querce più avanti abbiamo passato Paterno una ricca fattoria appartenente ai monaci siamo entrati quindi in una profonda gola della montagna dove alcune pastorelle stavano sedute su delle rocce a sorvegliare le loro pecore occupate le pastorelle a filare con le loro mani la lana alla conocchia giusto? conocchia allo stesso modo senza dubbio delle pastorelle romane di duemila anni fa quindi veramente a quei tempi il tempo correva lento e ancora c'erano queste cose che richiamavano veramente tempi molto molto antichi vicino a un mulino in uno dei più freddi e selvaggi angoli che io abbia mai visto noi due abbiamo recitato la parte degli spiriti dell'acqua con grande stupore di quattro contadini che ci osservavano da una certa distanza cioè si sono divertiti a fare un pochino come ragazzi che si divertono a fare un po' di scene eccetera eccetera questo mulino dell'acqua che cos'era? era il ponte del mulino di Tosi capito? e lui lo descrive appunto uno dei più freddi e selvaggi angoli che io abbia mai visto perché in effetti oggi c'è una strada ci sono le case ci sono punti di riferimento a quei tempi non c'era nulla quindi era impressionante in quella totale solitudine guardare queste montagne quando ancora si doveva camminare per arrivare alla meta infatti avvicinandosi alla meta i due infaticabili camminatori chiesero ad un giovane contadino che avevano incontrato quanto territorio i monaci possedevano e lui rispose tutto quello che vedete finalmente verso mezzogiorno racconta siamo emersi dal bosco in un ampio viale che traversa un prato alla estremità del quale era l'imponente edificio del monastero esatto c'era già questa strada nel 1845 quindi c'era già la strada sì infatti su una roccia che torreggiava sopra c'era il paradisino dietro il quale si ergeva la montagna coperta di foresti siamo stati accolti all'ingresso da un giovane monaco in tonaca e cappuccio al quale abbiamo chiesto il permesso di stare fino al giorno dopo che fu subito dato fratello placido se lo ricorda? ma so che si chiamava Pieri poi questo era il suo nome l'ho conosciuto per il 1845 ma li conosco storicamente dice questo fratello placido ci ha poi chiesto se non desideravamo la cena e ti credo abbiamo risposto che il nostro appetito non era male per avere scalato la montagna e in mezz'ora ci siamo seduti a una cena che di simili non ne avevamo viste da lungo tempo veramente pensavo deve essere una cosa piacevole essere monaco di Vallombrosa né ieri né oggi quanto al cibo nel pomeriggio abbiamo camminato attraverso una grande pineta sul ciglio occidentale della montagna dove si apriva una vista che richiederebbe al lettore una fantasia eccezionale per riuscire ad immaginare ciò che io ho visto realmente dall'altura dove ci trovavamo la vista era ininterrotta fino al Mediterraneo una distanza di oltre 70 miglia i due giovani sono letteralmente rapiti dalla spettacolarità di questo panorama nel quale riconoscono facilmente la città di Firenze ed il corso dell'Arno che riflette la luce del sole e non sono per niente disturbati dal vento freddo che espira dalla montagna perché descrivono questo vento freddo restiamo su queste rocce abbandonando le nostre anime a questa bella scena fin quasi al tramonto a sera fratello Placido ci ha portato la cena col suo volto sempre sorridente e subito dopo siamo andati a letto nelle nostre pulite semplici camere per liberarci dal freddo sgradevole la mattina del giorno dopo il tempo non è molto bello nebbia umidità che però non impediscono ai due di rendere il classico omaggio alla memoria del poeta Milton con la vista al paradisino il passaggio davanti alla sempre spettacolare cascata del torrente vicano ed il racconto di un diavolo tentatore che fa precipitare San Giovanni Gualberto dall'alto della rupe ma la roccia sottostante si fa morbida ed evita conseguenze grave al santo è la cappella aiutatemi lungo la salita lungo la salita di dove si racconta che San Giovanni Gualberto o comunque il santo venne spinto giù masso del no 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 scusate ma ho un monte di cose per la testa dove Giovanni Gualberto cadde da sopra era abbastanza facile a quei tempi salendo la sua al paradisino che qualcuno inciampasse cascasse di sotto capito quindi insomma è andata bene quel giorno non si è fatto nulla perché secondo la leggenda la roccia si è fatta morbida come sapone si e poi descrive la chiesa annessa al convento è piccola ma molto solenne e venerabile sono andato più volte a riflettere in quel cupo ambiente a sentire il mormorio cantilenante dei monaci una volta li ho visti tutti nelle loro tonache nere marciare solennemente verso la cappella di San Giovanni Gualberto dove hanno cantato una salmodia una salmodia una salmodia qualcuno diceva profonda che a me sembrava avesse in sé qualcosa di terribilmente sepolcrale i due hanno anche l'occasione di consultare i libri delle firme dei visitatori riconoscendo fra le pagine alcuni personaggi a loro noti come lo scultore Clevenger e questo è un altro personaggio che dovrò cercare di capire che cosa fece a Vallombrosa Mary Shelley che ho già sviluppato nei miei personaggi che lo aveva preceduto di tre anni nella sua visita a Vallombrosa la principessa Potemkin si tratta probabilmente ho messo nelle note di Caterina II imperatrice di Russia che secondo la storia aveva segretamente sposato Gregory Aleksandrovich Potemkin ma infatti ho messo non ho notizie su sua presenza in Italia per ora è una discendente di questo qui della famosa corazzata no? si ma l'imperatrice non è mai venuta in Italia va bene salvo trovare le prove del contrario vediamo vediamo mi sento molto investigatore che ritorna sulla scena del delitto a distanza di due secoli a cercare di capire che cosa è successo come si sono mossi chi è passato da quel posto si scoprono tante cose infatti io quando ho iniziato questa ricerca non immaginavo di trovare tutte queste cose e il poeta allora riprende il racconto siamo alla fine resistete ancora un attimo eravamo così deliziati di questo luogo che avremmo potuto rimanere ancora un giorno ma per paura di approfittare troppo della sontuosa ospitalità dei buoni padri nel pomeriggio ci stringemmo la mano con fratello Placido e voltammo le spalle ad uno dei più solitari e suggestivi luoghi che la terra può vantare lungo la via del ritorno queste sono parole mie decidono di passare dal piccolo villaggio di Tosi molto pittoresco racconta l'autore molto pittoresco visto da lontano ma estremamente sporco a passarci attraverso era un ristorante non c'era niente capito a Tosi erano tre casupole di persone che vivevano dei prodotti della foresta o di carbone queste cose qui capito è l'unico accenno che viene fatto da qualcuno sul villaggio di Tosi di questi personaggi che io ho studiato Bayard conferma il passaggio e la breve sosta per disegnare il ponte e il mulino di Tosi per poi riprendere il lungo cammino verso Firenze e conclude questa felice esperienza con una autentica romantica dichiarazione d'amore per il nostro paese e dice dolce dolce Italia con calde felici lacrime che riempiono gli occhi e un cuore traboccante di luminose fantasie vago nella solitudine e nella tranquillità di questo tempo e ti amo come se fossi figlio della tua terra e poi aggiunge in fondo ho visitato i principali luoghi di interesse in Europa goduto i più grandi paesaggi e le meraviglie dell'arte antica e moderna familiarizzato con altre lingue altri costumi e altre istituzioni e ritornando a casa dopo due anni di assenza disposto ora con la curiosità soddisfatta a riprendere la vita in America e lui ritorna poi alla sua vita in America però come tanti tanti autori che io sto analizzando diciamo sono descrivono un'Italia una Firenze ma soprattutto quello che interessa ripeto a noi vallombrosani descrivono una vallombrosa con parole che a volte oggi stesso è difficile trovare però a quei tempi scrivevano queste cose dopo dopo un viaggio veramente massacrante dove c'erano veramente tanti rischi ed era difficile arrivare quassù quindi per loro era il massimo della soddisfazione poter violare diciamo questo questo isolamento e fare questa meravigliosa scoperta ecco io ora poi per concludere passo la parola a padre Damiano e vorrei semplicemente dire che io continuo a portare avanti questo lavoro che mi sembra che mi rendo conto sarà un lavoro abbastanza ciclopico perché si è allargato sì perché andando avanti con la ricerca vengono fuori sempre nuovi personaggi perché un personaggio come le ciliegie un personaggio tira l'altro e quindi logicamente nel momento in cui si incrocia un personaggio sconosciuto si fa un appunto e si incomincia a investigare anche su quello cosa ha scritto cosa ha fatto se ha dipinto eccetera eccetera quindi per ora sono solo appunti io spero che nel corso di qualche anno verrà fuori qualcosa di più interessante anche perché tramite questi personaggi che ho scoperto ho scoperto e ho trovato delle opere soprattutto pittoriche di grande grande interesse oltre ai boemi eccetera sui quali sto lavorando io vi ringrazio per stasera e faccio concludere a Padre Damiano che è stato mi ho dato un po' poco la parola però diciamo io avevo questo bisogno di fermarlo per almeno un'ora e raccontargli un pochino di queste cose proprio una minima parte sentiamo che ci dice se mi dice di smettere mi fermo nell'autunno poi anche io mi spulcerò questi registri li vediamo insieme troviamo greci tedeschi e gli Stati Uniti dagli anni 20 dell'ottocento prima sono quasi tutti inglesi e francesi c'è stato Lamartine che ha fatto una poesia su Vallombrosa ma io ringrazio Nicola che conosco dall'altezza la sua altezza era così lui e i suoi fratelli e anche il suo papà abbiamo un rapporto da tantissimi anni io sono qui dal 57 perciò i veri Vallombrosa sono Nicola i suoi fratelli e la indistruttibile Maria Teresa con suo marito anche lei l'ha conosciuta che era era così con i suoi fratelli il suo babbo la sua mamma che era una donna speciale Maria Teresa che ha ricreato questa piccola versiliana a Vallombrosa che è una cosa veramente ammirabile noi siamo un po' gli abbandonati ora entro un po' leggermente nella politica siamo abbandonati da tutti dallo Stato dalla provincia dal comune dalla regione lentamente ci hanno tolto anche la pompa di benzina perciò qui c'erano negozi ti ricordi stanno chiudendo la posta ecco cerchiamo stanno chiudendo la posta che da noi cerchiamo di vitalizzare la storia Vallombrosa appunto anche a livello di visitatori è essenzialmente di stranieri gli italiani hanno cominciato a venire col fenomeno alberghiero 1880 in poi perciò c'è stato Nietzsche nei primi del novecento c'è stato quel famoso Carlo Placci un ricco fiorentino che conosceva tutti e andava dappertutto in Europa non solo però è rimasto sempre una cosa anche perché come vedete ora la grande stagione di Vallombrosa è un po' limitata per tanti motivi e fra tutti fra noi e voi cerchiamo di fare qualcosa anche noi diamo il nostro contributo insomma le visite abbiamo un museo vengono studiosi in biblioteca ecco siamo disponibili non stiamo lì a reggere i muri ecco questo sia molto chiaro tant'è vero che come affittuari del ministero delle politiche agricole noi abbiamo da pagare l'affitto la manutenzione ordinaria e straordinaria se domani col tempo che si prospetta a livello di euro il peso di stare a Vallombrosa fosse troppo forse io spero di no tra l'altro ho 76 anni perciò non è che potrebbe arrivare tanto presto ma si devono considerare queste cose perché noi ci stiamo anche la consideriamo casa nostra però è assurdo effettivamente tutti troviamo assurdo che i monaci debbano pagare un affitto per stare in casa loro se poi la regione farà la proprietaria del complesso ci metteranno i ciceroni col berretto che un giorno sì e un giorno no fanno lo sciopero vogliono la quattordicesima nessuna polemica per chi guadagna lavorando ma noi credo che facciamo un servizio gratis non sarebbe la stessa cosa no non sarebbe la stessa cosa ci sarebbe più l'anima vallombrosana comunque vorrei concludere dicendo che non sappiamo quale futuro ci aspetta questa vallombrosa però almeno io credo veramente che dobbiamo ricercare il passato di vallombrosa e di saltino perché se no si perde anche quello e quindi in questo senso va anche la ricerca che faccio su queste presenze vallombrosane ma anche la ricerca che facciamo insieme a Duccio Baldassini e a Giovanni Pestelli lo scrittore sulla storia anche più recente di Saltino e vallombrosa di nuovo grazie a tutti se ci sono domande siamo qui grazie a Padre Ramiano grazie a Maria Teresa che ci ha ospitato come al solito in questa bellissima terrazza che grazie a lei è tornata a vivere speriamo un giorno di vederla anche restaurata però insomma ci vorrà un po' di tempo capito posso dire qualcosa ma in via eccezionale facciamo parlare anche Maria Teresa mi dispiace perché ci piaceva tanto che Milton fosse stata a mandombrosa e ci ha sfatato un miso proprio non è detto non è detto io non ci credo secondo me c'è stato ma bene ma io sono quelle gli studiosi continuano a dividersi io direi c'è stato quando uscirà la lettera sull'organo del paradisino si si va bene ma quello che suonò l'organo è Beckford è lui che suonò l'organo e quando è stato qui questo? perché Milton è stato il primo eccolo qua William Thomas Beckford è lui che ha suonato l'organo nell'abbazia ma lui era un tipo che i monaci gli stavano antipatici scriveva certe cose ma perché c'era un organo lassù avevano un osservato certamente scusate un attimo prima che le persone vadano via io volevo ricordarvi l'appuntamento ora direte tutti i giorni c'è una conferenza che scatole perché ci sa da fare però noi facciamo questo e diamo la possibilità a chi vuol venire giustamente liberamente di venire o no nessuno si deve sentire obbligato e così però volevo consigliarvi quella di lunedì 30 perché c'è il dottor Massimo Sottani che tra l'altro è stato il sindaco del nostro territorio il sindaco di Reggello per una decina d'anni per due legislature e in questo momento lui ha preso un po' in mano la situazione del castello di San Mezzano perché le vicende dei proprietari che si sono via via succeduti poi sono andati così devitalizzandosi ci sono state varie società che si sono fatte avanti per cercare di comprarlo restaurarlo magari renderlo poi sotto forma di qualcosa di bello si spera però per adesso non accade niente ci siamo andati molto vicini anche quando successe l'incidente del figlio di John Kennedy perché no di Giovannino di Giovannino Agnelli perché scusate no c'era stato anche lui comunque la moglie era una delle azioniste di questa grande società inglese che voleva recuperare poi successe questo grave incidente e questa cosa non è più andata adesso lui si è messo a fare un po' insieme ad altri appassionati il guardiano del castello di San Mezzano perché c'erano già entrati i vandali avevano portato via tante cose si cominciavano a distruggere le sale moresche e così e viene a raccontarci nel centenario della morte del marchese che è Imenes d'Aragona e quindi ci viene a raccontare la storia del castello di San Mezzano è una storia locale che è qui vi sotto quindi riguarda sempre Vallumbrosa un po' il nostro territorio e chi vuol venire io vi invito caldamente lunedì 30 e martedì 31 invece rifacciamo che l'anno scorso ha avuto grande successo il teatro di memoria e quello che cos'è voi sapete che noi abbiamo recuperato diversi circuiti oltre quello delle cappelle che ho risuscitato da quando sono piccolina perché esisteva ma era perduso nessuno se ne ricordava cioè la passeggiata nelle antiche di Mola nelle ville di Saltino che è molto bella perché Saltino non è solo qui ma però ha un sistema così ha anche ospitato grandi personaggi ecco quindi c'è tutto un po' una storia e l'anno scorso abbiamo fatto una parte che è stata interessante bella per chi l'ha fatta perché poi c'è un gruppo teatrale che fa delle scene che riguardano proprio questo luogo adesso facciamo dall'altra parte e visiteremo cioè saremo ospitati in delle ville dove si svolgeranno queste scene che riguardano appunto questi vallombrosani e saltinesi che sono stati in villeggiatura negli anni quindi vi ringrazio della vostra presenza tante tante grazie e a presto grazie